Cecilia e Ignazio stanno trascorrendo il Natale in Trentino dai genitori di Ignazio. Giocano a tombola. Si è nascosta l'osso dentro un presepe. Aspettavi che venissi sul bambino anche per te, Aspi. Dai Pietro, Pietro, non sappiamo più come fare con questi cani, eh. Auguri, amore, buon Natale. Grazie, ma perché mi devi fare così? Perché Natale, Natale puoi. Non puoi fare mai. Come l'ha presentato a tombola. Allora, chi è che ha fatto ci vincere? Io. Ignazio sfotte Cecilia perché stava vincendo a tombola, ma poi alla fine ha vinto Cecilia. Al prossimo episodio... Grazie a tutti.